l'ho fatto proprio per farti fare il video su youtube è vero è vero ciao youtube bacione anche al mio avversario si è un grande si si dita si lo tiene ho provato ieri lo tiene mi sembra strano già morto quindi il suo dovere l'ha già fatto non può mantenere però secondo me no le due copie allora no chiariamo le due copie con incubo vivido si perché evoca una copia esatta ti prego non fare il fire per la luna e la lancia 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 potrei fare shadow world ma mi interessa non credo che mi interessi però per la luna e la lancia per la luna e la lancia per la luna e la lancia beh 4 6 ammirate l'arte riuscite a vederne la meraviglia ci sono già 6 albatross cioè lui ha già 6 volte la pescata morta tecnicamente è più che sufficiente per mettermi avanti ok in realtà da qui usciranno altre 2 copie di albatross questo stesso ne metterà altre 2 stessa cosa qui stessa cosa qui quindi già adesso ci sono almeno allora sono 8 10 12 14 16 18 18 pescate morte 20 20 pescate morte e qua ce ne sono altre 2 e dall'alto della mia infinita cattiveria sta morendo di pressure innanzitutto perché sono comunque delle 4-3 però anche nel disperato tentativo capito di di gestire questa situazione sono 26 albatross adesso la parte divertente è che chiaramente non lo possiamo ammazzare quindi non lo possiamo ammazzare ovviamente quindi ne facciamo adesso facciamo lo schiatta morte non commette il conflitto li seppellisco albatross albatross e albatross dovevo fare gara quando deve andare in testa ovviamente 22 24 26 o forse 28 anzi no 28 perché ci sono anche quelli di prima 28 51 perfetto benissimo adesso praticamente 30 top deck su 50 sono la merda sono delle 1-1 e lui ne vuole pescare il più possibile di queste 1-1 chiaramente avrei voluto per chiudere sto memando per vedere se arriviamo se arriviamo al dunque 5-5-5 pesca un albatross una visione tra le piaume una visione basta questa ancora? non è abbastanza il nostro amico certo io ho perso il conto saranno 36 credo 36 su 46 una cosa del genere però sicuramente ne ha in mano qualcuna comunque dai facciamo 40 albatross in totale io tecnicamente ho ancora una volta questa combo comunque rinascete nelle sangue siete prigionieri del vostro stesso corpo siete prigionieri del vostro stesso corpo vorrei che le giocasse io vorrei che giocassi tutti gli albatross che ha pescado eccolo qua vedete tutte le volte che lui poteva pescare una carta decente anziché prendere una carta vera quante volte aveva una mano di albatross aveva una cazzo di mano fatta di albatross porca fortissimo è fortissimo contro quel tipo di mazzo palla è fortissimo contro warlock mage questa gente un po' più lenta tutti quelli che tendono a pescare almeno 4-5 carte nel corso della partita non a chiuderti di quarto quinto nel momento in cui iniziano a pescare due o tre volte albatross anziché pescare delle carte utili allora vedete lui ha fatto quello che poteva con i discover con delle cagate che aveva già in mano perché tutti i suoi top deck erano delle cazzo di uno a uno e non gli serviva quindi la parte bella è quella lì a a a a Grazie a tutti.